bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi abbiamo una notizia degli ultimi minuti una notizia dell'ultima ora per quello che riguarda fortnite e più precisamente l'aggiornamento che come al solito cade il giovedì quelli aggiornamenti che fanno di solito di giovedì quando buttano giù i server per un'oretta un'oretta e mezza sistemano i bug fixano le cose mettono magari delle skin nuove beh ragazzi guardate che cosa è apparso oggi nella sezione news in arrivo ragazzi una nuova arma un nuovo oggetto si chiamerà fortatile che in inglese in realtà viene tradotto come port a port grenade sembrerebbe ragazzi una nuova granata nuovissima che fa una roba che nessuno di noi si aspettasse iniziamo a leggere subito la breve descrizione fortatile presto in arrivo il nuovo forte portatile genera una rapida posizione difensiva all'impatto che cosa vuol dire vuol dire ragazzi che se noi abbiamo nel nostro slot questo oggetto mentre lo lanciamo e nel momento in cui lui tocca terra si crea istantaneamente davanti a noi una struttura ok non abbiamo ancora capito siccome non esistono attualmente gameplay che ci mostrano il reale funzionamento della granata fortatile se questo oggetto creerà una struttura che possa essere con quattro muri e un tetto o se creerà all'istante una sorga di muro o chissà che cosa certo ragazzi che dobbiamo dire questo è veramente un'idea folle da parte di epic games nell'inserire una roba del genere perché io immagino magari stiamo facendo un fight uno contro uno pronk questo ci lancia sta roba spadam viene fuori una struttura fatta e finita di certo ragazzi non mancherà un sacco di brio quando andremo a vedere il vero funzionamento di questa nuova granata arriverà al 100% questo giovedì ragazzi quindi fra un paio di giorni è ovviamente non vedremo l'ora se riusciamo addirittura oggi o anche domani di estrapolare di andare a cercare nel web qualcosa che ci mostri il reale funzionamento voi ragazzi ditemi una cosa secondo voi come funzionerà questa granata questo fortatile non diciamo granata perché su internet sul web si parla di granata ma non sappiamo se sarà un oggetto che c'è sicuramente sarà lanciato nel senso ma non sappiamo bene come funzionerà scrivetemi qua sotto ragazzi secondo voi secondo te come funzionerà la fortatile beh ragazzi ci tenevo davvero tantissimo a farvi questo video aggiornamento per farvi ricordare che su questo canale ragazzi le notizie di fortnite e fortnite mobile vi vengono date con una manciata di ore di ritardo rispetto a quando arrivano in america ovviamente per questioni di fuso orario quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mettete un bel pollicione se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo in live ciao commentate commentate ciao 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 ciao